Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Elisa, scusate se senti dei rumori ma c'è la finestra aperta, vi ricordo che in infobox vi lascio tutti i miei social e commentate se volete qualche video. Allora oggi sono qua per farvi vedere il mio trucco che uso più spesso, anche perché io non è che mi trucco tanto, mi trucco giusto quando devo uscire, a scuola non mi trucco mai, e non sono una makeup artist quindi non so se mi trucco bene, e niente, direi che si può anche iniziare, allora prima di tutto mi do questo siero quando mi devo truccare, o la faccia e mi do il siero, questo qua, se non c'ho così più va bene, va benissimo Per quanto riguarda il fondotinta, utilizzo questo qui, la Guerlè, che è la tonalità più cara, la numero uno, di solito lo do solo per coprirmi le occhiaie, o sennò quando proprio in quei periodi del mese, che è la faccia coperta da brunfoli e tutto, ho tutta la faccia, non c'ho più vicino, perchè che il forma di un sacco 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 di uno come è già? teenage non sono fiume, nooo, non posso nonprofits, non possono accettare il cuore di un sacco di due al éléphant di un sacco di due da la faccia e questa è la versione v Sharma, non posso gli liarmi, non ho tutti halmi del francesco di un sacco di un sacco. E questo qua progetto, è un colore abbiamo sempre oltre un sacconto, che sono iniziato senza ma non è doubleprints e non lo cioè ancora proprio invenita e ветto sullare più lackad знancia di un sacco di un sacco bambi che sono fatto dio dabba tra l opposed co? a e e e e e e così e niente si fa un po' qua 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 e qua e andiamo senza stendere anzi prima per vedere il labbro di cacao almeno si ammovi con le labbra e le arrivare allo rosetto o all'ucidalabbra in 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 ok me ne sono andato un po' troppo e quindi si va con un toglierne un po' in 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 gli ombretti utilizziamo questa cosa della che si apre così in 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 e utilizziamo come ombretto in 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 questo via questo via pennello dell'acchio l'acchio andiamo su questo sui blocchiali prendiamo lo specchietto e andiamo ad applicarlo sulla parte mobile a l'acchio e a l'acchio e la l'acchio non so come stia avvenendo però poi vi faccio vedere tutto il trucco e questo era la palette allora io di mascara ne ho due quello della tuss e della debora e questo invece la debbi e io utilizzo solo quello della debbi in tutti i miei trucchi mi si trova bene e quindi io ho quello di questo qui 8 minuti 20 e dopo che abbiamo finito con gli occhi passiamo al luci da labbra rosetto allora io mi do il questo rossetto che è rosa della kiko 119 che è così oppure i luci da labbra che sono questi quello che mi do quelli che mi do più spesso sono questi tre qua questo della pupa non so se si vede questo della kiko che è extra volume lip gloss o questo qui della debbi che stessa che smai lips vabbè ora mi do questo qui della debbi e sono anche quelli che ho sempre in borsa e niente il mio trucco finisce qua perché non mi do né pad né niente spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video ciao